Cambiamo argomento. Un incontro per fare il punto sulla situazione economica e sociale dell'Aquila a sette anni dal rapporto OXE, quando vennero definite le linee guida per incentivare il coinvolgimento delle comunità locali dopo gli eventi catastrofici del 6 aprile. Le riprese e il rilancio economico dell'Aquila sono stati al centro di un incontro pubblico, l'Aquila 2030, che punto siamo, a distanza di sette anni dalla presentazione del rapporto OXE sul futuro dell'Abruzzo dopo il sisma del 2009. E allora, studiosi di allora, sono voluti tornare nel capoluogo per una giornata di riflessione, organizzata dalle istituzioni universitarie aquilane. Noi siamo nati per dare un contributo alla città dell'Aquila, insieme ai laboratori del Gran Sasso, dell'NFN, insieme all'Università dell'Aquila naturalmente. E in questi anni abbiamo sviluppato vari progetti insieme, come dico, stiamo crescendo da qua al 2030. Noi vorremmo caratterizzarci come un'istituzione che naturalmente fa ricerca e formazione a livello di eccellenza, ma con tre caratteristiche peculiari. La prima è l'interdisciplinarietà, cioè i nostri progetti coinvolgono insieme economisti, geografi, informatici, matematici. Un'altra caratteristica importante è quella del creare dei rapporti con le aziende ad alta tecnologia, con le imprese del territorio, con una possibile rigaduta anche sulle piccole e medie imprese. E su questo stiamo pensando a un hub tecnologico. E sulla terza caratteristica, invece, è quella di impegnarci per una riduzione delle disuguaglianze. Nel forum del marzo del 2012 vennero presentati i risultati preliminari che poi sarebbero confluiti nel rapporto dell'Ocse, come aiutare le regioni a sviluppare la resilienza, commissionato dal Ministero dello Sviluppo, da Confindustria e dagli stessi sindacati. Un rapporto che ha voluto definire le linee guida a ripensare il modello di sviluppo regionale, ma soprattutto a portare avanti il coinvolgimento delle comunità locali dopo gli eventi catastrofici. Allora, il rapporto di sette anni fa identificava quattro, diciamo, li chiamavano pillars in inglese, quindi quattro pilastri, quattro gambe di una sedia, io poi vedrete la presentazione e le presenterò così, quattro dimensioni che sono interconnesse e sono fondamentali per la ricostruzione dell'Aquila. Non si parla solo di ricostruzione fisica, ovviamente la ricostruzione fisica è una condizione necessaria, ma bisogna pensare anche all'Aquila del futuro. L'idea di oggi è avere un dibattito aperto con i cittadini, io informerò i cittadini che non hanno letto magari il rapporto di sette anni fa in dettaglio di quali erano le raccomandazioni principali di questo rapporto, poi apriremo alla platea, ai sindacati, alla Confindustria che hanno sponsorizzato questo rapporto e sentiremo la loro opinione, perché poi noi scriveremo un rapporto aggiornato, anche della raccomandazione in futuro per il 2030, ma informato anche da quello che ci hanno detto i cittadini, che sono quelli che hanno vissuto il terremoto e ancora oggi stanno vivendo le conseguenze del terremoto.